è finita la prima fase quindi di questo sorprendente mondiale 2022 e sfido chiunque a immaginare prima del mondiale ad aver immaginato prima del mondiale negli ottavi di finale contemporaneamente squadre come senegal marocco corea del sud e giappone io penso che siamo veramente andati oltre ogni previsione oltre ogni più ragionevole previsione ieri c'è stata l'ulteriore grande sorpresa di questo mondiale con la vittoria del camerun contro il brasile delle seconde linee il camerun ha vinto proprio all'ultimo respiro con un bel colpo di testa a bubacar mi pare che si chiami a bubacari mi ricordo bene il nome del centravanti un po il lukaku del camerun poi la svizzera ha battuto la serbia quindi conquistando la qualificazione l'uruguay ha vinto solo 2 a 0 col gana dopo che il gana aveva sbagliato un rigore con aie che avevo sicuramente cambiare non solo la partita ma anche le sorti di questo girone ma la sud corea abbattuto clamorosamente il portogallo sud corea e camerun hanno entrambe vinto proprio nel finale con un bellissimo contropiede tra l'altro il gioco della sud corea è un piccolo gioiello perché cost to cost del coreano non mi chiedete i nomi perché penso che anche i telecronisti rai ci abbiano rinunciato ad un certo punto è partito praticamente dalla sua area di rigore era in fase d'attacco il portogallo che è stato un po fessacchiotto nella circostanza perché si è fatto battere poi in contropiede una partita in una partita che tutto sommato aveva condotto costantemente il gioco insomma ma un po deluso ieri sinceramente il portogallo quindi c'è questa cost to cost io a un certo punto pensavo ma mo dov'ai che c'è due giocatori davanti che poi sono diventati tre erete mo che fai mo dov'ai e lui è stato molto bravo perché ha rallentato e ha aspettato l'inserimento centrale il taglio del compagno che è arrivato a grande velocità devo dire essendo che eravamo nel finale di partita è un gesto atletico che va sottolineato perfetto quindi il passaggio filtrante che passa tra l'altro sotto le gambe di un giocatore portoghese c'è anche una percentuale anche di buona sorte poi l'attaccante ha realizzato un gol storico abbiamo visto tifosi in lacrime inquadrati sugli spalti sono state immagini bellissime che io sostengo una delle cose più belle poi dei mondiali sia essendo che sono vissuti con grandissima partecipazione perché sono un evento un po particolare soprattutto per questi paesi per queste squadre che faticano sempre ad arrivare o comunque se arrivano magari escono subito al primo turno e credo che sia una delle cose più belle da sottolineare appunto la gioia la passione le grandi emozioni il folklore anche no che è consuetudine vestirsi in un modo molto eccentrico allo stadio in questa occasione eccetera comunque certamente ripeto è un mondiale che in certo senso passerà la storia come un mondiale delle grandi sorprese però potrebbe essere anche interpretato secondo un'altra chiave di lettura cioè la sensazione che forse nella geografia del calcio qualcosa sta cambiando perché sono sempre di più i calciatori per esempio africani che giocano in europa e tutto questo produce alla lunga degli effetti perché poi questi tra le altre cose quando se ne vanno a giocare in nazionale hanno ormai consolidato delle conoscenze in europa e portano per esempio possono portare consigli metodi di lavoro qualche dritta insomma c'è tutto un percorso di crescita e avendo questi popoli per natura una grandissima fisicità una straripante fisicità io comincio a pensare che nel tempo potrebbero crescere veramente tanto quello che ancora manca a queste squadre è che c'è un momento in cui una squadra anche forte vede nascere nel suo paese il maradona della situazione per capirci no c'è un giocatore tecnicamente di un altro livello di un altro pianeta che può veramente trascinare la squadra verso risultati imprevedibili e questa ancora non si vede però succederà anche questo succederà succederà è una cosa che io prevedevo per esempio nell'atletica leggera no che a un certo punto sembrava difficile abbattere certi limiti ad esempio nei 100 metri però io pensavo ora siamo su questi livelli ma ad un certo punto uscirà fuori un velocista che sarà talmente dotato talmente alto a livello fisico come è stato Usain Bolt che praticamente possiamo definire un marziano rispetto ai suoi antagonisti quando gareggiava sarà talmente diciamo avrà talmente di più degli altri che farà crollare anche i record che secondo logica non avrebbero mai crollare è successo con Usain Bolt è successo con Maradona nel calcio e succederà probabilmente prima o poi anche in una di queste squadre che oggi sono delle sorprese no nascerà un Maradona giapponese nascerà un Maradona senegalese qualcosa succederà alla lunga perché loro partono comunque da un patrimonio proprio fisico atletico notevole abbiamo quindi adesso per quanto riguarda il Brasile voglio dire che ieri mi hanno un po' deluso erano tante riserve però hanno sbagliato veramente tanti gol c'è questo Bruno Chimaraes che mi è sembrato veramente un giocatore evanescente bisogna fare i complimenti a Dani Alves che a 39 anni si è elevato la grande soddisfazione di giocare una partita in un mondiale credo che sia ovviamente da sottolineare tra l'altro ha giocato anche bene Dani Alves nel primo tempo poi ha avuto un calo anche fisico perché adesso non mi ricordo se è uscito o a che minuto è uscito mi ricordo più in questo momento ma un primo tempo sicuramente buono di Dani Alves il giocatore ovviamente andava a una velocità ridotta rispetto al Dani Alves che che ricordiamo noi però io visti i difensori del Brasile alternativi alle riserve ho l'impressione che Roger Ibagnes per irruenza fisica per strapotere fisico per per età avrebbe potuto rappresentare cioè in panchina secondo me si vorrà stare benissimo perché adesso si è infortunato poi si è infortunato Danilo non era disponibile che sarà recuperabile però per le prossime partite adesso non mi ricordo bene Danilo che cosa si è fatto ma io penso che visti gli altri i bagnaci potrebbero stare benissimo probabilmente l'allenatore brasiliano non si è fidato di un giocatore che comunque è stato convocato una volta sola se non sbaglio in nazionale quindi non era proprio inserito incastonato nel gruppo aveva bisogno forse di conoscerlo meglio gli ottavi di finale bisogna dire che cominciano subito cominciano oggi con due partite una alle 4 e una alle 20 olanda stati uniti e argentina australia con l'argentina che io credo che andrà con grande facilità ai quarti di finale è quotato 1 e 20 l'argentina da betfair ma ormai sui pronostici bisogna lasciar perdere perché come dicevo ieri in questo mondiale era da giocasse 100 euro sempre sull'avversario super sfavorito cioè uno avrebbe fatto veramente i soldi perché ieri per esempio 100 euro su cameron vincente col brasilio il cameron era 11 100 euro sulla corea vincente mi pare fosse a 7 se non sbaglio insomma poi ci sono state partite come argentina arabia saudita 1 2 germania giappone 1 2 che era 20 il giappone pensate col 100 euro 2 mila euro faccio un esempio no quindi ma ce ne sono state anche altre che ora vediamo un po di ritrovarle rapidamente giappone costa rica 0 a 1 è stata un'altra grossa sorpresa belgio marocco 0 2 insomma ragazzi tunisia francia 1 a 0 altra grandissima sorpresa giappone spagna 2 a 1 cioè ragazzi questi sono dei risultati veramente impronossicabili poi nei giorni successivi sempre a gruppi di due partite sempre alle 16 una e alle 20 l'altra ci saranno stiamo parlando delle ottavi di finale cioè del turno che mette a confronto le 16 squadre che sono rimaste fino a questo punto quindi abbiamo detto oggi olanda stati uniti argentina australia poi francia polonia domani ita e sì magari italia inghilterra senegal ma questi sono due partite che io penso che dovrebbero essere portata a casa l'inghilterra tra l'altro sembra una squadra che potrà dire veramente la sua fin in fondo perché parco attaccanti vi sia avesse anche le altre squadre molto interessante e tra l'altro volevo anche sottolineare un altro dato particolare cioè che sostanzialmente le squadre che sono le grandi le grandi favorite proprio a parte l'inghilterra di questo mondiale cioè brasile spagna francia argentina hanno tutte perso una partita delle tre della fase a gironi è una cosa abbastanza clamorosa quindi probabilmente avremo un campione del mondo che che ha perso almeno una partita nel nel torneo poi c'è giappone croazia ti da questa interessante equilibrata vediamo un po poi c'è brasile corea del sud con la corea del sud che non può credo non possa abbattere proprio questo brasile qua con i suoi titolari eccetera anche se come abbiamo visto in questo momento il brasile ha qualche problema di formazione marocco spagna e portogallo svizzera ma il portogallo ragazzi non è che mi abbia convinto molto ieri perché io io ho visto per esempio un cristiano ronaldo un po appannato non mi ha convinto ho visto un po in attacco non è che mi abbiano fatto una buona impressione nonostante che hanno molti giocatori la svezza è una squadra rognosa sappiamo quando sappiamo qualcosa noi italiani la squadra che se imbrocca la partita a livello tattico può creare dei problemi al portogallo marocco spagna penso che marocco non possa competere con la spagna a livello proprio tecnico a livello di organizzazione di gioco ma ha disputato comunque un grande mondiale insomma ha vinto il suo girone a sorpresa quindi possono tornare veramente a casa con grande soddisfazione francia polonia un'altra partita ecco diciamo che le partite tra virgolette più equilibrate sono olanda stati uniti francia polonia e e giappone croazia queste sono le più equilibrate naturalmente la francia e favola largamente favorita con la polonia però la polonia una squadra che anche se con l'argentina ma deluso perché è stata dominata per tutta la partita qualche freccia nel suo accocelare innanzitutto c'è un grande portiere per esempio che è già parato due rigori ma polonia francia polonia scusate non vorrei aver sbagliato sì 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 è francia polonia francia polonia io penso che la polonia non sarà come una passeggiata per la francia ecco olanda stati uniti stati uniti sono una squadra mi ha messato una buona impressione però in attacco gli manca sicuramente qualcosa perché ueha è molto giovane ancora e migliorerà tanto c'ha dei margini di miglioramento ma anche a livello fisico ancora importanti in questo momento penso che l'olanda può eliminare gli stati uniti e giappone croazia invece gran partita per il giappone ragazzi queste occasioni forse ripetibili cioè poteva arrivare addirittura ai quarti di finale dopo quello che hanno fatto fino a questo momento battendo spagna e germania cioè loro comunque vada saranno una delle delle grandi tra virgolette vincitrici di questo mondiale perché hanno fatto sono andati proprio oltre qualsiasi immaginazione oltre le più rose previsioni hanno veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo tra l'altro ribaltando il risultato in tutte e due le occasioni quindi veramente solo applausi per il giappone la croazia è una squadra rognosissima per me la grande outsider di questo mondiale ho detto fin dall'inizio però squadra anche molto lunatica ci hanno dei giocatori che sanno giocare molto bene modric brozovic peric tazza gente qua però sono una squadra lunatica quindi quando sono una giornata no possono fare qualsiasi disastro quindi credo sia una partita che fino alla fine all'ultimo sarà molto combattuta per quanto riguarda le previsioni guardando più avanti diciamo in ottica finale ecco stanno parlando un po' tutti io dopo aver visto l'argentina all'opera con la polonia sinceramente ho visto una squadra che c'è un gioco che ti può veramente devastare perché loro fanno girare questa palla in orizzontale la tre quarti accelerando rallentando cioè guardare che marcare sta gente è complicato perché questi fanno girare la palla da una parte all'altra poi improvvisamente c'è la l'imbucata o la sventagliata dal lato opposto sul giocatore che si smarca siccome ci hanno dei giocatori che tecnicamente sanno dare molto bene la palla a cominciare da messi io non capisco cosa sta aspettando scaloni a far giocare di bala ma probabilmente perché di bala in questo gioco può essere veramente devastante e probabilmente lo sta risparmiando per le ultime partite è una mia impressione ma loro l'impressione che cioè loro hanno fatto un mondiale dove hanno fatto benissimo con la polonia col messico e hanno molto questa mattina di grande tensione non si può dire che abbiano giocato bene però hanno comunque fatto costantemente la partita con la l'arabbia saudita primo tempo benissimo tre gol annullati sono andati molto in fuorigioco ma si è giocato praticamente a una porta poi hanno sbagliato questo secondo tempo con l'arabbia saudita complessivamente quindi credo che sia una squadra che può arrivare e come può arrivare naturalmente anche il brasile che abbiamo visto che ha dei giocatori importanti se gli infortuni che ha avuto non creano troppi problemi credo che queste sono due squadre che arriveranno molto molto avanti va bene allora oggi pomeriggio ci vedremo l'anda stati uniti alle 16 e argentina australia stasera alle 20 e io vi ringrazio per l'attenzione buon mondiale a tutti